Il Consiglio Comunale di Ribera ha proceduto ieri sera all'approvazione dello statuto della nuova società consortile per la gestione dell'acqua pubblica in provincia di Agrigento. Lo ha fatto alla ripresa dell'attività consigliare dopo il lockdown, nella prima seduta del civico consesso tornato a riunirsi all'interno di Sala Frenna. Quello approvato all'unanimità è lo statuto della forma societaria decisa all'interno dell'Assemblea Territoriale Idrica dopo che con le interdittive antimafie inflitte dal prefetto a dirigenti Acque alla controllata Idortecne è stato necessario costruire uno scenario nuovo dopo un dibattito lungo diversi anni. La scadenza per l'approvazione dello statuto da parte di tutti i consigli comunali dei 43 comuni agrigentini è quella del 31 maggio, tant'è che il punto a Ribera è stato inserito qualche giorno fa in un ordine del giorno suppletivo proprio alla luce dell'imminente data di scadenza. Via Libera inoltre del Consiglio Comunale anche ad un altro punto urgente, cioè la modifica della convenzione stipulata con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini per la concessione incomodato d'uso gratuito dell'immobile di proprietà comunale Sito in Corso Umberto. Si tratta, come è noto, dei locali della ex Scuola Media Francesco Crispi. Buona parte dei lavori consigliari è stata poi dedicata al dibattito politico sull'emergenza coronavirus e sulle azioni da adottare per far fronte all'emergenza. All'ordine del giorno c'era infatti il punto riguardante il programma delle misure per far fronte ai danni causati dall'emergenza Covid-19 in favore di partite IVA, disabili e famiglie, la cui richiesta di inserimento era stata avanzata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali Francesco Montalbano e Ina Picarella. È nel contesto di tale discussione che il sindaco Carmelo Pace ha informato il Consiglio Comunale della proposta dell'amministrazione di rinviare a settembre il pagamento di IMU e Tari per famiglie e attività economiche colpite dall'emergenza. Sempre a proposito di misure per il sostegno alle imprese è stato approvato all'unanimità l'atto di indirizzo presentato dall'opposizione relativo alla richiesta di ampliamento delle superfici di occupazione di suolo pubblico a gettito invariato quale azione di sostegno all'emergenza socio-economica da Covid-19. Approvati inoltre diversi debiti fuori bilancio, alcuni dei quali risalenti al 2018 relativi ai danni provocati dal nubifraggio di quell'anno. Rinviata invece la trattazione degli altri punti, mentre è stata rigettata la richiesta di progette financing per la costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero. Premetto l'importanza del testo.